Grande partita oggi di tutto il collettivo, come ha detto il Minister, però anche te abbiamo visto che hai le qualità per star bene in categoria. Sì, abbiamo fatto bene tutti, all'inizio siamo partiti un po' con un atteggiamento un po' superficiale, però siamo stati bravi a recuperare con la mentalità giusta. E niente, sto impegnando durante gli allenamenti, cerco sempre di dare il massimo appunto per poter aiutare la squadra nel migliore dei modi e ringrazio anche il Minister che mi sta dando questa opportunità di poter giocare e fare questa esperienza. Va bene. Cosa posso? Tra due giovani Matteo è uscito il vecchio, vuole essere uno schieramento a tre con due giovani adesso, piazza, si sta riprendendo. Come ti trovi? Ti bacchettano, ti aiutano? Eh sì, spesso mi dicono di parlare con gli altri, di indicargli dove è l'uomo, perché essendo l'ultimo giocatore devo dare indicazioni, però sì, mi trovo bene con tutti i miei compagni di difesa e mi aiutano in tutto questo punto di vista. Grazie.